Si ritiene soddisfatto il presidente provinciale di Confartigianato, Edilizia Sassari, Franco Ponti, per la proroga del superbonus 110% previsto fino al 2023. Una misura che sta aiutando l'intero paese a rialzarsi dalla crisi economica, ha dichiarato Ponti, ma il governo si deve impegnare a fare di più, garantendo la proroga anche per gli edifici unifamiliari, edifici fino a quattro unità immobiliari, unità immobiliari funzionalmente dipendenti che sono prevalenti nel nostro territorio e la cui esclusione comporterebbe una grave penalizzazione per le nostre imprese e per tutto il territorio nazionale. Il presidente provinciale di Confartigianato, Sassari, auspica che il Ministero dell'Economia e Governo modificano il piano superbonus per includere tutte le tipologie abitative e per garantire il necessario supporto finanziario anche alle imprese artigiani locali sarde che altrimenti non potrebbero permettersi appalti milionari, misure necessarie secondo Ponti che agevolerebbero l'economia dell'isola, fortemente compromessa anche dalla crisi pandemica.